Pagani annuncia la sua rivoluzione culturale in ambito scolastico, tra nuovi edifici e lavori di rifacimento. La città si arricchisce di nuovi plessi, aumentano le iscrizioni e si potenziano i servizi di trasporto. I nuovi interventi, che hanno come obiettivo la realizzazione di nuovi plessi più innovativi, accoglienti e mai organizzati, rientrano nell'ambito di una nuova politica scolastica che la città di Pagani, guidata dall'amministrazione De Brisco, intende attuare. Il progetto, che dimostra la priorità che la scuola sta assumendo, prevede una serie di importanti lavori. L'amministrazione intende infatti potenziare il servizio di trasporto scolastico verso il nuovo plesso di scuola elementare Flaucinola, che andrà a sostituire la scuola elementare Mangioni. Una volta completati i lavori per l'edificazione del plesso, la cittadinanza studentesca verrà trasferita presso la scuola Flaucinola, che, come annunciato dal sindaco, sarà in grado di contenere sia le esigenze di spostamento degli studenti, sia le nuove iscrizioni raccolte. Proseguono inoltre i lavori per ripristinare la stabilità della struttura della scuola Manzoni, dopo l'abbattimento dell'ala costruita negli anni Ottanta. Si rifà una scuola che rappresenta un simbolo culturale di memoria storica della città. Nella strategia di interventi pronunciati dal sindaco rientra anche l'istituzione di un nuovo polo che sarà sito in via Traversa Taurano. I lavori con la presa di possesso dei terreni partiranno a fine settembre. Insomma, la riqualificazione dell'edilizia scolastica va ad inaugurare la strategia di interventi dell'amministrazione di Eprisco dopo la pausa estiva. Bambini, scuola e cultura è protagonisti di una sfida che dopo le iniziative annunciate anche nella vicina nocera in ambito scolastico, dimostrano l'importanza che gli amministratori locali tendono a attribuire alla scuola e alle sue potenzialità, perché la scuola sia ancora il posto dove si può formare una comunità migliore. Il punto che vede due cose importanti soprattutto, non c'è più il plesso di via Mangioni, sono iniziati e stanno proseguendo i lavori della Flacinola per la sistemazione e la creazione di queste nuove aule. Si temeva che il passaggio dalla Mangioni alla Flacinola potesse perdere qualche alunno, invece no. Il dirigente scolastico, il presidente Trusio, mi dice che sono addirittura aumentate le iscrizioni, così come stanno lavorando alla manutenzione dei vari pressi scolastici. L'altra notizia è che da qui a breve inizieranno sempre in tema di scuole i lavori su via Traversa Taurano per il finanziamento di 2 milioni, il progetto esecutivo. A fine settembre c'è la presa in possesso dei terreni e inizieranno i lavori per questa nuova scuola. Proseguono i lavori alla Manzoni speditamente, per cui sotto questo aspetto ci sentiamo sereni che l'anno scolastico possa iniziare nel miglior modo possibile. Fermo restando anche che in questi anni tutte le caldaie sono nuove, per cui non dovremmo avere problemi di caldaie. Ci dobbiamo impegnare, ci stiamo impegnando invece su eventualmente creare questo servizio del trasporto scolastico, perché onestamente la Flacina è un po' più fuori mano rispetto alla Mangioni e diciamo da alcune economie stiamo cercando di garantire il trasporto per questi ragazzi che andranno lì.